Ieri l'incontro in prefettura a cui ha preso parte l'amministrazione comunale di Vittoria, la Vittoria Mercati, la direzione Mercati. Oggi un incontro qui all'interno del mercato ortofrutticolo, nella sala conferenze, per fare il punto della situazione sui progetti che sta portando avanti la società di gestione del mercato ortofrutticolo. Intanto con il sindaco Nicosia abbiamo fatto il punto sull'incontro di questa mattina. La Vittoria Mercati sta lavorando benissimo e oggi sta presentando quello che sarà il protocollo d'intesa con l'ASP per assicurare la salubrità e la certificazione sanitaria sui prodotti che escono dal mercato. Un punto in più che sicuramente darà valore aggiunto alla produzione ortofrutticolo e quindi potrà andare negli altri mercati alla vendita con sicuramente maggiore soddisfazione ed è anche un passo avanti verso il marchio perché bisogna essere certificati. Dall'altro lato, ieri positissimi incontri in prefettura dove abbiamo esplicitato quali sono le azioni che stiamo conducendo sul mercato, azioni più che positive dove si registra una svolta rispetto a 30 anni di anarchia oppure di dimenticanze delle pregresse attività. Avete parlato del centro di lavorazione, avete parlato anche di marchio ma anche del protocollo d'intesa siglato con l'ASP. Sì, è in fase di preparazione il protocollo d'intesa da siglare con l'ASP ma è un passaggio importante perché assieme al marchio che anche questo è in fase di ultimazione, sono due elementi che ci permettono di creare valore attorno alla produzione che viene commercializzata al mercato ortofrutticolo qui a Vittoria. Quindi su questi progetti stiamo lavorando, abbiamo bisogno chiaramente della collaborazione di tutti gli operatori del settore, dagli operatori commerciali anche agli agricoltori e quindi stiamo iniziando una serie di incontri per far capire a tutti quali sono gli obiettivi che debbono essere raggiunti e quale forma di collaborazione bisogna realizzare.